Oggi vi parlo della mia pelle. E io della mia. Io voglio idratarla. Io averne cura già da ora. Esigenze diverse. Stessa soluzione. L'acqua. Noi beviamo rocchetta. Rocchetta mi depura nel modo più naturale. Plin plin. Disseta la mia pelle. Che appare luminosa. Più bella. È la nostra amica. Per la pelle. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Perché la pelle è lo specchio della nostra bellezza. Grazie a tutti.